Polizia, 118 e Guardia Costiera sono intervenuti all'alba di questa mattina a Lido Pavarotti di Baia Flaminia, dove una donna pesaresi di età compresa fra i 45 e i 50 anni è stata trovata senza vita sul bagnasciuga all'estremità dell'arenile, in prossimità del San Bartolo e della cosiddetta Oasi delle Tartarughe. A trovare il cadavere attorno alle 4.30 alcuni addetti alla polizia della spiaggia che hanno subito allertato i soccorsi. L'ambulanza intervenuta ha constatato il decesso, la polizia ha effettuato i rilievi, identificato la donna, P.P. le sue iniziali e avviato le indagini sulla causa del decesso. Sembra remota la possibilità di morte sopraggiunta in seguito ad atti di violenza. Gli inquirenti non escludono il gesto volontario, ma potrebbe trattarsi anche di una morte riconducibile ad un abuso di farmaci. La polizia ha sequestrato la Volkswagen Golf parcheggiata a Lido Pavarotti a lei riconducibile. E' stata disposta all'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso.